carissimi amici benvenuti all'appuntamento con autofrancia finalmente siamo tornati consultate il nostro sito autofrancia.it lì troverete tutti i nostri contatti il numero di rete fissa i numeri di cellulari quindi potete anche sfruttare la videochiamata o semplicemente mandarci una mail prendere appuntamento o venirci a trovare in corso francia 341 a torino perché siamo aperti sette giorni su sette e vi aspettiamo questo mese veramente strapitoso perché abbiamo riservato per voi delle offerte incredibili sia che vogliate comprare autovetture nuove o che vogliate comprare autovetture d'occasione aziendale o chilometri zero pensate che sulle autovetture targate risparmiate fino al 50 per cento dal prezzo di listino sconti pazzeschi anche sull'autovetture nuove in pronta consegna le modalità di pagamento ormai lo sapete l'autofrancia le scegliete voi nessuno vi vieterà di fare il pagamento per contanti se è quello che preferite ma ci sono delle offerte veramente incredibili da sfruttare pensate che potete fare il finanziamento anticipo zero quindi non anticipare nulla e la prima rata la pagate nel 2021 le minirate che partono da 90 euro mensili quindi una rata veramente bassissima potete sfruttare il noleggio per privati e cioè ve lo dico in due parole avere tutti i vantaggi del noleggio a lungo termine dedicato a voi privati ma avere la macchina di vostra proprietà all'interno avete servizi a 360 gradi avete l'assicurazione furto incendio avete la casco avete i tagliandi 5 anni di garanzia il cambio gomme la macchina di servizio gratuita il valore a nuovo per per quattro anni quindi veramente avete un investimento mensile bassissimo perché il noleggio per privati potete farlo anche se le autovetture aziendali e chilometri zero quindi con un prezzo veramente molto molto basso questo vi darà un canone mensile bassissimo e tutti i vantaggi del noleggio a lungo termine dedicato a voi privati quindi come vedete abbiamo tutte le soluzioni che state cercando ma adesso restate con noi ci trasferiamo nel padiglione delle autovetture d'occasione aziendale chilometri zero occhio perché ci sono delle offerte veramente da non perdere siamo nel primo padiglione delle autovetture d'occasione aziendale chilometri zero verrete accolti subito da una splendida alfa giulia 2002 turbodiesel 150 cavalli aziendale veramente pari al nuovo prezzo imbattibile partono da 18.900 euro volendo potete sfruttare il ttc zero pensieri cioè il noleggio dedicato per privati e qui avete un costo di guida giornaliero a partire da 14 euro mensili quindi avete veramente una rata un costo mensile bassissimo abart 595 pista nuova chilometri zero 1.400 turbo 165 cavalli nuova chilometri zero regalata 20.900 euro anche qui potete sfruttare il noleggio per privati la yunda i10 login con impianto eco gpl regalata 11.400 euro se cercate una 500 ne abbiamo oltre 40 a vostra disposizione abbiamo le chilometri zero le aziendali partiamo da 8.900 euro anche le panda chilometri zero aziendali oltre 60 a vostra disposizione qui è veramente un'offerta incredibile partiamo da 7.900 euro volendo noleggio per privati ttc zero pensieri cioè avete un investimento mensile bassissimo avete servizi a 360 gradi qui il costo di guida giornaliero sulla panda parte da 6 euro al giorno e non dovete pensare più a nulla se non a fare la responsabilità civile avete veramente zero pensieri y12 gold 69 cavalli nuove chilometri zero questo mese partono da 10.900 euro abbiamo le aziendali da 8.900 euro twingo con impianto eco gpl lì vedete un'altra alfa giulia questa volta col cambio automatico g prenegate mille turbo 120 cavalli nuova chilometri zero con impianto eco gpl non state sognando regalata solo 19.450 euro anche qui volendo costo di guida giornaliero con noleggio per privati pensate parte da 15 euro al giorno avete zero pensieri e servizi a 360 gradi se cercate la 500 l abbiamo quello che fa per voi perché l'abbiamo sia chilometri zero che aziendali questa come vedete chilometri zero oppure aziendali soffermiamoci un attimo su fiat tipo che ne abbiamo messe 5 a vostra disposizione aziendali con un prezzo imbattibile parliamo di tipo 1600 turbodiesel 120 cavalli abbiamo sia le versioni business che le versioni lounge quindi siamo al top della tipo pari al nuovo già detto 5 a vostra disposizione prezzo imbattibile partiamo da 10.900 euro volendo posso sfruttare il ttc tutto tutto compreso zero pensieri cioè il noleggio dedicato a voi privati con un costo di guida giornaliero a partire da 9 euro al giorno cioè avete l'assicurazione furto incendio la minicasco italiani 5 anni di garanzia non pensate più nulla avete anche il cambio gomme guardate quante opportunità vi diamo siamo nel secondo padiglione citron c3 aircross 1200 fil 110 cavalli chilometri zero 14.900 euro le 500 e le aziendali partono da 10.900 euro concludiamo con citron c3 1.282 cavalli aziendali veramente pari al nuovo siamo al top della citron c3 parliamo di un'autovettura aziendale a solo 11.900 euro eccoci purtroppo siamo giunti in chiusura avete visto solo alcune delle autovetture d'occasione aziendale e chilometri zero che autofrancia ha messo a vostra disposizione oltre 400 quindi impossibile non trovare quella che state cercando vi ricordo tutta la gamma fiat alfa e lancia jeep in pronta consegna il finanziamento da cogliere questo mese anticipo zero la prima rata la pagate nel 2021 vi ricordo il noleggio lungo termine dedicato a voi privati che potete farlo sulle autovetture nuove o anche sulle autovetture d'occasione aziendale chilometri zero con un investimento mensile veramente bassissimo e avere tutti i benefici del noleggio lungo termine ma avere l'auto di vostra proprietà quindi come vedete le offerte questo mese non mancano consultate il nostro sito autofrancia.it troverete tutti i nostri contatti numero di cellulare il numero di rete fissa telefonateci oppure fate una videochiamata che vi faremo già vedere le autovetture per telefono mandateci una mail prendete l'appuntamento oppure semplicemente veniteci a trovare in Corso Francia 341 Torino perché siamo aperti 7 giorni su 7 qui troverete veri professionisti che vi faranno sentire come a casa vostra e saranno in grado di soddisfare al 100% tutte le vostre esigenze quindi vi aspettiamo qui da noi all'autofrancia vi aspettiamo